Ancora imbattuta la San Benedettese con Mazzetti in panchina. Contro la Triestina i marchigiani vanno in vantaggio con Ruffini al 22esimo della ripresa. Ma dopo appena 5 minuti arriva il pareggio degli alabardati con De Giorgis che riprende di testa un cross del capo cannoniere De Falco. Vediamo il gol di De Giorgis.